Della sala stampa ci inducono un'accelerità massima. È una conferenza stampa che era programmata per otto giorni fa, è stata rinviata per un riguardo non formale ai magistrati che dovevano avviare ieri l'udienza di decisione sulla ben nota vicenda del Presidente Berlusconi. Quindi come atto di riguardo abbiamo lasciato che si avviasse la questione e poi abbiamo reso nota una petizione al Capo dello Stato fatta dal Ministro di Grazia e Giustizia del Governo Umbra, Professor Federico Tedeschini, che la sottoscrive ovviamente moralmente a nome di tutti e che la presenterà al Capo dello Stato. Oggi dal punto di vista cronistico è una notizia superata. Sapevamo di bruciare la notizia usando un riguardo che è corrisposto a un silenzio stampa sostanzialmente. Sono con me alcuni membri del Governo Umbra, oltre al Professor Tedeschini, che ringrazio, il Ministro delle Riforme Michela Biancofiore, il Ministro dei Beni Culturali Alda Boscar, il Ministro Sella, Ministro dello Sviluppo e il Ministro della Pubblica Istruzione Stefania Fuscagni. Ci abituiamo a chiamarli ministri perché noi speriamo che come sempre le idee folli in questo Paese producano risultati concreti, nel senso che sarebbe bello che in una stagione di riforme si adottasse anche nel nostro Paese il Governo Umbra, come nella cultura anglosasone, come il dirimpettaio nel interesse del Paese del Governo Reale. Questo Governo Umbra ha prodotto una petizione che rimane valida anche se il caso Berlusconi è avviato a soluzione perché potrà essere un precedente. Noi chiediamo al Capo dello Stato di intervenire nelle forme che riterrà su una questione che non è solo di Berlusconi, potrà ripresentarsi, in parti è già presentata, perché ad esempio oggi alcuni giornali parlano del caso Forlani che non faceva politica quindi non aveva bisogno dell'agibilità politica. Ma io vi devo dire che probabilmente per chi ha certi ideali e che non accomunano tutto il Governo Umbra, anzi forse appartengono solo al Presidente del Consiglio, ma per chi è stato democristiano certamente l'assenza di Arnaldo Forlani dalla vita politica italiana venti anni fa può essere stata una perdita morale, civile, di confini della propria libertà e quindi è giusto che il professor Tedeschini ci illustri una proposta che può essere superata dalla cronaca ma che mantiene una sua validità perché delinea una questione vitale della nostra democrazia che andrà ben oltre rispetto alla questione personale del Presidente Berlusconi che ci auguriamo superata e che comunque rimane un precedente che condizionerà la vita pubblica italiana. Io passerei la parola al professor Tedeschini per una breve illustrazione e poi darei il testo della petizione. Ecco guardate, intanto mi rifaccio... Mi permetti di salutare l'Onorevole Pannella che inviterei a unirsi al Governo Ombra in questa riflessione. Non lo vediamo, va bene. Intanto dicevo, bisogna precisare che questo è un atto politico ed è un atto politico rispetto al quale il caso Berlusconi è l'occasione, non il fine. Noi ci siamo posti il problema di come in Italia si può assicurare l'agibilità politica a coloro che per qualche ragione si trovino in condizione di restrizione della libertà. È un problema che non riguarda quella che dalla stampa viene chiamata l'anomalia italiana. È un problema talmente generale che il documento che voi leggerete si rifà alle norme della CEU, la Convenzione Europea dei Ditti dell'Uomo e anche della carta fondamentale che accompagna il Trattato di Lisbona. Quindi il caso Berlusconi non è il fine ma l'occasione. C'è però una cosa da dire e uno strumento che se io fossi un giornalista per chiedervi per un attimo di rubarvi il mestiere utilizzerei per valutare questa petizione. Voi immaginate di avere un avversario politico, uno qualunque, di destra, di sinistra, di centro o anche un avversario sportivo. Ecco, provate a vedere se questo documento può essere applicato indifferentemente a tutti i soggetti che si muovono sul lagone politico e che si trovano di fronte a un determinato evento. Guardate che questa materia già il legislatore costituente l'aveva affrontata e non a caso ha dato al Capo dello Stato anche il ruolo di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura perché il conflitto tra politica e magistratura domina il processo democratico. Beniamino Franklin diceva che la democrazia si regge sull'invidia fra i poteri. Quindi questa petizione resta uno strumento al quale fare riferimento sempre e comunque tutte le volte che un problema di questo genere si porrà. Base della petizione. Legittimazione alla petizione. Voi vedrete che abbiamo definito il governo Ombra un comitato. giuridicamente è tale e i comitati nascono secondo il Codice Civile e si legittimano per il solo fatto di operare. Ora che noi operiamo penso che sia fuori discussione. La base giuridica quindi della petizione è una lettura combinata della normativa europea con la normativa costituzionale con prevalenza, attenzione, della normativa europea. Perché può piacere o può non piacere. Ma la normativa europea ormai fa premio su quella nazionale. Qualche volta, come in questo caso, fa premio a vantaggio dei cittadini. Qualche altra volta, come nel caso dell'euro, fa premio il loro danno. Ma questa è l'opinione personale dei tedeschini e fuori dalla conferenza stampa. Vi dicevo quindi che la base è la lettura della normativa nazionale ed europea con preminenza della normativa europea. L'oggetto è la richiesta di una iniziativa. Una iniziativa che può essere una qualunque, che si definisce per i suoi contenuti. Sicuramente la richiesta di una iniziativa avrebbe un contenuto diverso dove ieri, per tornare al caso concreto, fossero stati richiesti gli arresti domiciliari. È stato richiesto saggiamente il servizio Cile e quindi l'agibilità dovrebbe essere assicurata. Ma qui non c'è un problema di una petizione che vuole la libertà di un condannato. Qui c'è una petizione che, nell'interesse degli elettori, vuole una misura che consenta a chi deve scontare una pena, mentre la sconta, di poter continuare a rappresentare coloro che, a ragione o a torto, lo considerano il loro leader. Quindi è uno strumento che ha un significato politico sicuramente notevole, ma è anche uno strumento politicamente neutro. Cioè si applica a chiunque. A chiunque. E vi ricordo che spesso nella storia del Parlamento si sono incrociati problemi di giustizia penale con problemi di giustizia politica. Su questa linea si muove la petizione. Io credo che la distribuzione della petizione sia la cosa fondamentale, perché io mi fermerei qui. La petizione è uno strumento molto semplice. Voi sapete che tutti si possono rivolgere al Presidente della Repubblica per domandargli qualcosa. Ora vi viene distribuita. Ne ho fatte una ventina di copie. Ve la guardate e poi noi siamo a disposizione per rispondervi. Grazie per ora. Prego. Passiamo allora. Grazie. Passaggio di mano. Prego. Alfredo. Un attimo. Ai giornalisti. Grazie. Ve la lasciamo anche a disposizione di chi arriverà in ritardo. Naturalmente il tempo per una lettura giuridica non c'è né per il Presidente del Consiglio Umbra né per i giornalisti. Però se ci sono domande siamo qui. Per noi è sufficiente l'introduzione del professor Tedeschini. Come al solito è molto dettagliato. Non ci sono domande. Grazie. Alla prossima. Grazie. Grazie. Chiedo scusa a una particolare e importante. Vi circola la stesura iniziale con la firma di tutto il Governo Umbra. Al contrario tecnicamente la petizione deve avere un solo firmatario che è il professor Tedeschini. Quindi tutti gli altri nomi sono come non apposti. Non perché non sia condivisa ma perché tecnicamente deve essere solo uno. E quindi il firmatario della petizione è il professor Tedeschini. Perché se mettiamo il nome di Rodondi o Biancofiore diventa un atto politico di Forza Italia eccetera e diventa un altro ambaradan. Invece vuole essere un atto di profilo squisitamente tecnico giuridico. Grazie. 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 Grazie.